Andrea accende le luci. Martina Britton, Obama Boss, Rocky II, San Carlo, Belen, Sanremo, Libeccio, Indio. Agli ordini dello start. Mezzo meccanico in movimento. Arretrati il 7, l'8. Libeccio, problemi per il 4, San Carlo, Di Galoppo, perde l'allineamento. Con cautela Rocky II, avvia la macchina in velocità. Buono l'allineamento. La spinge la macchina Sanremo, perché Sanremo e Sanremo va facile al comando alla chiusura nei confronti di Belen. Poi Rocky II che parcheggia a precedere Martina Britton. E così Gianni Visiello su Sanremo al comando. Si completa il lancio in 15.3, notevole. E ora amministra il vantaggio Sanremo. Lunga fila indiana al completamento della piegata e anche dei 400 iniziali. I 400 se ne vanno nell'ordine del 32.4. E davanti alle tribune si fa notare Martina. Martina va al Salchi di Rocky II. 4 hanno preso in largo. Sanremo allunga, si distende alla grande. Completa i 600 in 48.2, si viaggia da 1.20. E così si va sulla penultima curva, posizioni praticamente invariate. Con il stoico, mitico Sanremo a comandardo Operation. 1.4 e mezzo, il mezzo miglio iniziale. Fa corsa per proprio conto Sanremo. E di fronte aumenta il distacco dagli inseguitori un po' molto in affanno. Si va a timbrare un chilometro bollente in 1.22 addirittura. 500 alla meta. Poni che affrontano la curva finale. Per il momento c'è solo un po' in vista e in pista. Ed è Sanremo. 15.6 di fronte. 1.31.8, tre quarti di miglio. Gli altri appartengono a un'altra corsa. Ormai è un touch ball perché Sanremo è Sanremo. Passerello sotto applausi scroscianti per questo Sanremo. Facile. con Gianni Visiello. Poi viene via la grande il sette di Libeccio Griff. E poi il tre di Rocchi 2. Sanremo. Facile, facile. Is, is, is. Per il secondo. Arriva dopo un po' molto tempo il sette e poi il tre. Io ho due nove e mezzo. Signori, si consacra il campione. Sanremo. Con Gianni Visiello. Grazie a tutti e una buona sera a tutti. Grazie a tutti.